Salve amici del centro meteo italiano. Evoluzione molto incerta dopo l'epifania quando però freddo e neve potrebbero ancora interessare l'Italia a più riprese. Sul finire della settimana un vortice depressionario dovrebbe risalire dalla penisola iberica in direzione dell'Italia. Questa dovrebbe anche interagire con un nucleo di aria fredda di estrazione polare la cui traiettoria la vedrà passare però oltre Alpe e dirigersi verso la Spagna. Nel corso del weekend i principali modelli mostrano una risalita di aria calda sulle regioni del centro-sud mentre al nord, specie nella giornata di domenica, non si esclude la neve a quote molto basse o di pianura. Per l'inizio della prossima settimana l'anticiclone delle Azzorre potrebbe rimontare da ovest facendo traslare tutto verso est e riportando un po' di freddo anche al centro-sud. Impossibile al momento spingerci oltre. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.